E come dicevamo è giunto il momento di aprire una finestra sulla Siria e la Turchia. L'evento che stiamo seguendo attraverso i media relativo al terremoto sicuramente ci offre delle immagini, degli spunti di riflessione importanti. Meno di un minuto è stato peggio di 12 anni di guerra. ACS aiuto la chiesa che soffre, ha raccolto delle testimonianze ad Aleppo. Ma per sapere quali sono le testimonianze, qual è la situazione in questi territori abbiamo in collegamento e ritroviamo con piacere il direttore di ACS, Alessandro Monteduro. Buongiorno e bentrovato. Buongiorno e bentrovati tutti voi e tutti i telespettatori. Diciamo appunto della Siria che vive già una situazione difficile ormai da 12 anni a questa parte. 12 anni di guerra, ma per molte persone ad Aleppo e in altre città colpite il devastante terremoto del 6 febbraio è stato ancora più traumatico. Qual è la situazione? Quali sono queste testimonianze? È un disastro. È un disastro sempre il terremoto quando si presenta con un'intensità così elevata. Stiamo parlando di scosse telluriche, pari quasi come scala all'ottava della scala Richter. Io sono stato ad Aleppo per portare la mia testimonianza poche settimane prima della pandemia, quindi stiamo parlando del novembre 2019. E di per sé era già una realtà, una città completamente, ma veramente completamente distrutta. Mi faceva una gran fatica a provare a ripartire dopo gli anni di guerra, dopo le conseguenze di quegli anni, i bombardamenti. Insomma, Aleppo è stata veramente la città martire per antonomasia della Siria assieme ad OMS. Adesso pensare, ascolto in queste ore, ho sentito più volte i religiosi e religiose li presenti, ma pensare a cosa possa essere rimasto di quella realtà dopo il terremoto dell'altro ieri veramente mi addolora, ma realmente, profondamente. Ad Aleppo sono rimasti 22 mila cristiani, 23 mila cristiani, non di più, erano 150 mila prima del conflitto. Ci sono nove chiese, nove diocesi perché sapete benissimo la complessità delle chiese d'Oriente. Ieri vi è andato il cardinale Zennari, ha riunito i nove vescovi locali, sta cercando di coordinare gli aiuti. Come sempre, noi cristiani ci poniamo il problema della nostra comunità, ma non chiudiamo la porta ad alcune. Dunque, i nostri aiuti sono per tutta la popolazione di Siria, in modo particolare, nello specifico di Aleppo. E da questa città arrivano le voci di religiosi e religiose, come ci diceva qualche istante fa. Tra queste due testimonianze di due suore, vengono riportate anche attraverso i vostri mezzi di comunicazione. Che cosa emerge da queste testimonianze? Emerge la disperazione, ma realmente la disperazione. La disperazione di chi in questi anni ha provato a riavviare un processo virtuoso, a riavviare sino in fondo una comunità e di colpo, come diceva appunto lei precedentemente riportando la testimonianza di una di queste due sorelle, in tanti secondi è avvenuto quello che neppure 12 anni di orribili bombardamenti erano stati capaci di produrre. Io voglio aggiungere un ulteriore elemento, perché credo sia doveroso in questo momento, da italiani e da occidentali, sottolinearlo. C'è un grande tema, c'è un grande problema riguarda il tema dell'embargo, delle sanzioni economiche. E la verità, in Siria rispetto alla Turchia gli aiuti stanno giungendo con maggiore difficoltà a causa di quello che è stato stabilito dalla comunità occidentale, vale a dire un blocco da anni che non ha mai consentito in questi anni di poter far giungere ad Aleppo, a OMS, in tutta la Siria, quelli che erano i nostri aiuti. Per essere chiari, in questi anni di conflitto e post-conflitto, anche i circuiti bancari, tanto quello europeo, il cosiddetto IBAN che tutti conosciamo, quanto quello americano, cioè il circuito SWIFT, non hanno consentito di far giungere anche la carità dei nostri benefattori. E dunque noi, perché si potesse dare soddisfazione ai nostri benefattori, ci siamo dovuti inventare degli strumenti per far giungere concretamente i soldi della loro generosità, ci siamo dovuti inventare dei percorsi e degli strumenti che adesso non sto a descrivere. Ecco, morale della favola, l'appello mio, l'appello di tutti i cristiani di Siria è a far sì che almeno per questo momento si possano sospendere quelle condizioni che impediscono un concreto supporto umanitario. Immaginiamo le difficoltà incontrate in questo scenario di vero e proprio orrore. Già di per sé la guerra, come dicevamo, realizza delle situazioni difficili da vivere, da superare. Se a queste poi si aggiungono elementi disastrosi come un terremoto di questa portata e in più le questioni politiche che portano anche ovviamente a questo tipo di sanzioni, capiamo perfettamente quanto sarà difficile pensare a delle prospettive positive per il futuro di queste terre. Parlavo di orrore perché proprio in una di queste testimonianze, quella di Sor Anne de Merjan, spero di averla pronunciata bene, una religiosa cattolica che vive e lavora nella città siriana, dice Immagina di essere a letto alle 4 del mattino e il pavimento inizia a tremare violentemente. Le porte si aprono, i vetri si frantumano, le pareti oscillano violentemente. Dall'esterno giungono rumori di urla e crolli e dal profondo del terrore viene gridata una sola parola. Oh signore, meno di un minuto è più forte dell'intera guerra. In guerra ci sono zone sicure e altre rischiose, ma qui tutto il paese è a rischio. E ancora, Sor Anne Marie Gagnon, direttrice dell'ospedale San Luigi, principale struttura sanitaria cattolica di Aleppo, una religiosa delle suore di San Giuseppe dell'Aparizione, direttrice anche partner dei progetti di ACS, molto impegnata nel fornire aiuto ai sopravvissuti al terremoto. In un messaggio ad ACS, inviata allo stesso giorno del disastro, la religiosa racconta che ad Aleppo sono crollati molti condomini, ci sono morti e feriti, inoltre piove, fa molto freddo, abbiamo appena operato due persone ferite, abbiamo una famiglia cristiana in ospedale i cui familiari sono morti nel terremoto. Ora stiamo aspettando l'arrivo del sacerdote che è morto. L'ospedale stesso non è crollato, ma si teme che i danni strutturali lo abbiano reso insicuro. Questi sono alcuni degli elementi che possono fornirci un'idea di quella che è la situazione anche di estrema emergenza che stanno vivendo anche e soprattutto queste religiose impegnate nel territorio di Aleppo e non solo. Ma attraverso queste testimonianze, ce ne sono altre che magari invito ad approfondire attraverso il sito internet di Aiuto alla Chiesa che soffre, del quale abbiamo visto e stiamo vedendo anche delle immagini in questo momento. Ma direttore, attraverso l'operato di queste suore, seppur tra tutte le difficoltà esistenti nel fornire loro un aiuto, come si può intervenire? Abbiamo solo il mezzo economico per poter dare una mano a queste persone? Tre veloci riflessioni. La prima, ciò che mi ha colpito in queste ore è la loro saldezza, nonostante il trauma perché anche i religiosi e le religiose, anche le religiose di cui lei ha rappresentato la testimonianza, hanno ovviamente vissuto un trauma fortissimo, indossano sino in fondo la responsabilità di essere a capo, se posso esprimermi in questi termini, di comunità. E allora sin da subito si sono organizzati, in questo momento in tutte le chiese di Aleppo ci sono centinaia di famiglie che gli hanno trovato accoglienza, non hanno il coraggio di rientrare nelle loro fragili abitazioni. E questo è un elemento non di dettaglio. La seconda riflessione che voglio fare, come aiuto alla chiese di Soffre, ma assieme ad altre organizzazioni di carità, è stato immediatamente attivato un fondo di emergenza, questo fondo di emergenza attraverso i nostri rappresentanti che sono già da Aleppo, sono partiti da Beirut e sono già da Aleppo da 48 ore e coordinandosi come dicevo prima con il Nunzio, con il Cardinal Zennari e con tutti i vescovi, stanno cercando di capire come fronteggiare immediatamente l'impatto emergenziale. Ma le aggiungo, non le apparirà strano e spero non appaglia strano ai nostri telespettatori. Già stamane sono a conoscenza del fatto che si sta lavorando in una riunione per immaginare un piano di riparazione delle case che sono state solo lievemente o parzialmente danneggiate. Parlo di aspetti correlati all'arrivo dell'acqua, dell'energia elettrica. E il terzo elemento, noi siamo cristiani, siamo cattolici, loro in questo momento sentono forte la necessità della nostra preghiera e su questo credo che l'intera comunità non può e non deve sottrarsi. Vicinanza nella carità e vicinanza nella preghiera è il modo migliore per sostenerla. È sicuramente un appello importante questo a cui ci sentiamo di legarci ad aderire. Grazie ad Alessandro Monteduro, direttore di Aiuto alla Chiesa che soffre. Ovviamente manteniamo aperta questa nostra finestra e questo collegamento con la vostra realtà per essere informati sul momento circa possibili ulteriori necessità da parte di queste persone. Grazie e buon lavoro. Buona giornata e grazie a voi tutti.